La guerra è una malattia, trasmessa attraverso il sangue versato dai guerrieri. Sento il vento della tempesta in arrivo. Sento il vento della tempesta in arrivo. Spero non ti dispiaccia avere il peso del mondo sulle spalle. Ho spalle piuttosto solide, agente 1. Bene, stiamo perdendo la dannata guerra. Non lo sapevo. Il Cugilo tiene segreto. Il generale Deadset sta creando macchine da guerra inarrestabili in un complesso segreto. Uno dei suoi luogotenenti, Elga von Schaub, custodisce il dossier citato nel briefing della tua missione nella sua base operativa, il castello Wolfenstein. Nel dossier c'è la posizione del complesso di Deadsetta. Potrebbe essere l'ultima chance, prima che i nazisti annientino questo mondo. America non cederebbe mai. Ecco il posto di blocco. La tua copertura. Comandante Franz, nazista dell'SS di Francoforte. I papiri, bitte. Hier. Siamo una buona squadra, Blazkowicz. Possiamo farcela. Ok, senti. Il tuo tedesco. Francamente è pessimo. Quindi niente chiacchiere e cerca di tenere la pistola nella fondina. I documenti di Kessler sono nel porto oggetti. Là. Ok, andiamo. E ricorda, concentrati, non parlare e seguimi. D'accordo? Comandante Franz, Haus Frankfurt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ach, al diavolo. Um Himmels willen stramm stehen, Fritz. Der Jäger kommt gleich. Jawohl. Der macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldige, Onkel. Nenn mich nicht so. No. Zeigen Sie Ihre Papiere. Hier, bitte sehr. Alles klar. Guten Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Greta? Die Papiere, bitte. Augenblick, warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, ähm, Heine. Hot dog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Kreter, bei Fuß. Hot dog. Non sapevo cosa dire. Quello era Rudi Jäger, vicecomandante di Helga. Dicono che nutre i suoi cani con i prigionieri del castello. Wegst du sie in den Jäger. Oh, Gott. Geht's, Oliver. Oh, Gott. Elga von Schaps Proprio una carogna Scelta da Dezat stesso Come membro chiave della divisione paranormale delle SS Ho avuto la sfortuna di incontrarla in una missione in Tanganyika Te l'ho mai raccontato, Vlazgovic? Mi ero beccato la febbre emoglobinurica Il peggior giorno della mia vita Non riuscivo a stare meglio, nemmeno con il whisky Immagina Comunque, questo castello appartiene a Elga È il suo centro di ricerca segreto Dobbiamo eliminare Dezat o perderemo la guerra E Elga ha un ruolo chiave in questo Il dossier segreto si trova nel suo ufficio Dovrebbe rivelarci la posizione del complesso di Dezat Una volta ottenuta Allora Lanceremo un assalto alla sua base operativa Lo uccideremo Ribalteremo le sorti di questa guerra E torneremo giusto in tempo per il tempo Ci siamo Scendi Disattiverò l'allarme Vai al centro di ricerca di Elga Resteremo in contatto radio Lascio il canale aperto Lascio il canale Ok, sono nell'ascensore. Sulla passerella, BJ. Non sparare. Sono io. Darò un'occhiata lassù. Cerca una cassaforte. Il dossier dovrebbe essere lì. Ok. Dove nascondi i tuoi segreti? Ora, se fossi una cassaforte, dove mi nasconderei? Beh, non mi nasconderei perché non sarei senziente, eh? Immagino che me ne starei lì. Ma lì? Dove? Blaskovic, fruga in ogni angolo. Non ce ne andremo da qui senza quel dossier. Cazzo. Ho trovato la cassaforte, ma il dannato dossier non c'è. Non è qui. Ho visto una radio là. Usala per contattare Kessler. Digli che non troviamo il dossier. Vai in fretta, Blaskovic. Io resterò di guardia. Padfinder chiama Lansier. Rispondi, Lansier. Passo. Qui è Lansier. Passo. Lansier, non riusciamo a trovare il regalo per Lucy. Passo. Padfinder, ho nuove informazioni sul regalo per Lucy. Raggiungimi il prima possibile. Ne discuteremo di persona. Passo. Ricevuto, Padfinder. Merda! Porca potata! Tieni l'impegnati, Blaskovic. Io cerco una via di fuga. Ricorda, non resterà nulla di buono all'urno. Spara con i nazisti, Blaskovic! Ti sto lavorando! Ti sto lavorando! Tieni l'impegnati, Blaskovic! Come va con quell'uscita, Wesley? Che gran casino, eh, BJ? Abbiamo ancora una possibilità. Kessler sa qualcosa. Beh, non farà un piccolo tempo se non usciamo da qui. Ascolto, ho trovato una via. Vieni qui, ti tiro su. Attento, attento! Attento, attento! Dobbiamo incontrare Kessler alla caverna. Ricevuto. Ci siamo! Sali su! In fretta! Ecco, questa uscita! Non si torna indietro, BJ! Fermati! Merda! Merda! Sali su! Niente! Sali su! Sali su! Sali su! Sembe! Mentre mi è? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dimmi di più di questo segreto. Che cosa sa Elka? No. Mi spiace, signore. Mi ha scambiato per qualcun altro. È un secondo l'anno. Wesley, ti ho mai detto di zia Sara? Le diagnosticarono la demenza quando ero al college. Le medicine la rendevano solo lenta e strano. Ricordo i suoi occhi, come finestre sporche di una capanna pericolante. Mia madre temeva che fosse l'editaria. Alza la testa, inglese. Vi bringe ihn sul festo. Trovato. Jawohl! Was ist? La testa, inglese. La testa, inglese. La testa, inglese. Porca puttana. È un bestione. La testa, inglese. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.